caos biglietti caos abbonamenti inter allora uscita oggi in questi giorni la pubblicità per la campagna abbonamenti 2024 2025 ci sono già tante polemiche tra i tifosi le novità principali sono la differenziazione di abbonamenti tra il base e il plus tante persone sono un po indecise sul quale abbonamento sottoscrivere per la prossima stagione io adesso in questo video cercherò di spiegarvi in cosa consiste l'abbonamento base in cosa consiste l'abbonamento plus e quelle sono le sostanziali differenze rispetto all'abbonamento che facevamo l'anno scorso allora partiamo dalla situazione abbonamenti 2023 2024 quindi quella dello scorso anno e parto dal mio dal mio abbonamento quindi coi miei prezzi ma voi poi potrete rapportare tutto su quello che è il vostro settore io sono abbonato primo blu l'anno scorso ho pagato 455 euro per per tutta la stagione avevo il vantaggio ovviamente di risparmiare sul costo del singolo biglietto a partita quindi a me ogni partita veniva circa 23 euro avevo il vantaggio di avere sconti sul merchandising sullo store dell'inter o anche il negozio negozio fisico poi avevo la possibilità di prendere dei biglietti extra per altre partite fino a 4 e avere la prelazione per confermare il mio posto in champions e coppa italia e in più potevo rivendere il mio biglietto nel caso in cui io non fossi riuscito ad andare allo stadio per motivi personali malattia insomma lavoro eccetera eccetera e potevo farlo tutte le volte che volevo su su varie piattaforme oppure insomma vedevi un po tu come riuscire a vendere questo benedetto abbonamento quindi questo ce lo avevo per 455 euro quest'anno sono partiti rinnovi ok quindi l'inter ha proposto due tipologie di rinnovo abbonamento base e abbonamento plus partiamo dall'abbonamento plus tutti mi dicono cosa conviene fare il plus o fare il base allora il plus non è nient'altro che un abbonamento uguale a quello dell'anno scorso perché offre né più e né meno che gli stessi vantaggi cioè tu ovviamente un abbonamento per intero ti fa risparmiare sul singolo biglietto e questo ci mancherebbe poi hai lo sconto del 20 per cento sul merchandising hai la possibilità prima degli altri abbonati di acquistare biglietti extra e confermare il tuo posto champions e coppa italia in più hai la possibilità di rivendere l'abbonamento quante volte vuoi nel caso in cui tu non riesca andare allo stadio quindi lo stesso identico abbonamento dell'anno scorso dell'anno passato io l'anno scorso vi ricordo che l'ho pagato 455 euro quest'anno l'inter me lo propone a 610 ok quindi sono 150 euro in più 155 quello che sono il base parliamo del base che secondo me è una grande fregatura il base ha il vantaggio ovviamente anche questo di poter risparmiare sulla singola partita poi sconto del merchandising 10 per cento quindi già già sul plus c'hai il 20 sul base c'hai il 10 per cento e in più la cosa novità che secondo me è negativa è che se io non potrò andare allo stadio per motivi di salute personali lavoro o qualsiasi motivo insomma valido per non andare allo stadio potrò rivendere fino a un massimo di cinque partite esclusi i big match e questo abbonamento l'inter me lo propone a 540 euro quindi sono 85 euro in più rispetto all'anno scorso cos'è che mi fa incazzare un po mi fa un po incazzare che tu mi vendi l'abbonamento base a 85 euro in più ma è un abbonamento peggiorativo perché io se posso rivendere un massimo di cinque partite mentre l'anno scorso potevo rivendere il mio abbonamento per tutte le altre 19 già qua sta peggiorando la cosa quindi tu mi proponi una cosa peggiore a 85 euro in più se voglio evitare tutti questi inconvenienti quindi voglio avere la libertà di ammalarmi a inter napoli di stare a casa inter milan di dare l'abbonamento a inter juventus a un mio amico perché ci tengo che ci vada devo fare il plus che mi costa 610 euro in più tu l'anno scorso potevi vendere il tuo abbonamento al prezzo che volevi cioè tu andavi su una piattaforma oppure ti mettevi d'accordo con l'amico facevi il cambio nominale dicevi ascolta io per inter juventus voglio 100 euro se lui andava bene ti dava 100 euro altrimenti no quest'anno invece col plus lo puoi rivendere attraverso la piattaforma ufficiale dell'inter poi l'inter farà un conto vendita e ti darà il 60 per cento del insomma del biglietto se riuscirà a venderlo non solo ti darà questo 60 per cento in più non saranno neanche soldi che entreranno sul tuo conto corrente o ti entreranno in tasca no saranno crediti diciamo soldi virtuali che tu potrai spendere o per comprare altri biglietti che può andare anche bene come formula o per da spendere per prodotti ufficiali dell'inter quindi tu alla fine soldi non ne vedrai ma li potrai spendere sempre sempre in società inter che da un lato può andare anche bene per l'inter o per noi tifosi perché comunque se li lasci là non li spendi tirandoli un'altra volta fuori di tasca tua però ragazzi chiamare plus questo abbonamento quando è in tutto e per tutto uguale a quello dell'anno scorso mi sembra un po mi sembra un po una grossa fregatura una grossa fregatura è anche il base e secondo me nessun tifoso non dico nessun tifoso ma la maggioranza dei tifosi nerazzurri non sono contenti di questo trattamento perché comunque il tifoso è sempre fedele e quando parlo di fedele non dico è stato presente l'anno scorso è stato presente in annati in cui c'erano giocatori non all'altezza della storia dell'inter adesso non voglio fare i nomi perché mi sembrerebbe un pochino un pochino scorretto però c'erano rose e allenatori e dirigenti non all'altezza della storia dell'inter eppure ci sono tifosi ma è compreso che in quegli anni sono sempre andati allo stadio quindi se se questo è il ringraziamento capiamo capiamo che l'inter è un'azienda che l'abbonamento non è obbligatorio quindi uno può anche non farlo però diciamo che diciamo che ci saremmo aspettati magari un trattamento diverso ecco quindi io 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 la vedo così ho qualche servizio in più se vuoi aumentare i prezzi ci sta aumentare i prezzi ma metti qualche servizio in più non lo so qualcosa sul bar qualche gadget in più qualche qualche cosa si poteva fare in più quindi vediamo se l'inter prenderà provvedimenti ho già visto sotto la pagina ufficiale instagram che ci sono tante lamentele vediamo se l'inter prenderà provvedimenti ragazzi spero di essere stato chiaro se vi va potete scrivere nei commenti il vostro parere se avete domande potete farmene cercherò di rispondere nel limite del possibile cercherò di prendere ancora più informazioni e basta ragazzi se il video vi è stato utile vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like detto ciò come sempre saremo allo stadio anche l'anno prossimo sempre solo forza inter amala ciao a tutti